Madrina, si può anche degnare di venire in parte alla fiera? No, non voglio mettermi in primo piano, io sto qua, devo filmare oggi. No, no, per carità, nelle cose ufficiali io non posso, eh. Ho ordine né di sfilare né di presentare. Io vado a salutare un secondo etario. Arrivederci. Ragazzi, non vedo niente. La colpa è del capo confonde. Ecco, lo sgridiamo. Mi metto in mezzo a voi però, non si vede niente, volevo riprendere il carosello. Senti che tu! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.